E' bene non dormire a nord o a sud, perché questi cambiamenti non sono del tutto positivi per voi. Fino appena sopra la caviglia, metti i piedi dentro e chiudila, e siediti lì 30-40 minuti. Se lo fai, chi di voi soffre di allergie, semplicemente scompariranno. In caso non lo sappiate, viviamo su un magnete. La Terra è un magnete, lo sapete? Ha un polo nord e un polo sud. E noi stiamo vivendo su un magnete. Ma qualcuno vi vende un piccolo magnete da indossare al polso e cambierà la vostra vita. Sto dicendo, vivete su questo magnete, perché ve ne serve un altro? Questo è un magnete sufficientemente grande ed ha abbastanza influenza. Ed il vostro stesso corpo è parte di questo magnete, ed è esso stesso un magnete. Magari molte persone non funzionano come un magnete. Potrebbero essere poli opposti con chiunque altro intorno a loro, oppure poli identici, e respingere qualsiasi cosa. La pubblicità vi dice tante cose. Se indossate un magnete, potreste notare cambiamenti nei parametri fisiologici. Ma questo non significa nulla. Se vi avvicinate a un trasmettitore elettrico, potete misurare i cambiamenti che avvengono nel corpo. Se vi avvicinate a un albero, potete misurare i cambiamenti a livello fisiologico. In posizione eretta, il vostro corpo, i parametri fisiologici funzionano in un modo. Se solo vi stendete a terra, funzionano in un altro modo. Sapendo queste cose, vi abbiamo detto di non dormire a nord e sud, perché questi cambiamenti non sono del tutto positivi per voi. Quindi, dovrei indossare un magnete? Non necessariamente. Potrebbero causare dei cambiamenti. La fisiologia umana non può essere vista in modo semplicistico. Oh, la pressione sanguigna è scesa di cinque punti, quindi sto meglio. Non è così che funziona la fisiologia. È molto più complessa. Potrei dire che ci sono pratiche tantriche con cui possiamo allinearvi con la parte del mondo dove vivete. Sono cose che si possono fare, ma potevano andare bene nei tempi quando le persone non si allontanavano più di 20 chilometri dal luogo in cui vivevano. Siccome le persone camminavano solamente, non si allontanavano così tanto da un certo posto. Quindi a quei tempi il corpo si allineava naturalmente al pianeta in un certo modo, in base alle coordinate geografiche. Ma oggi vogliamo ovunque se vi allineiamo precisamente agli 11 gradi qui a Belliangheri e domani volate dall'altra parte del mondo, dovete sapere come riallinearvi, altrimenti il vostro corpo impazzirà in vari modi. quindi direi che se vi coinvolgete di più con il grande magneto su cui noi tutti viviamo e di cui tutti siamo fatti, porterà molti più vantaggi che indossare minuscoli magneti al polso. dopo tutto potreste solo avere limatura di ferro. quindi quello che puoi fare al mattino è dopo aver finito la tua Shambhavi scavare una buca nel tuo giardino non abbastanza grande per te solo per i piedi e fino appena sopra la caviglia metti i piedi dentro e chiudila e siediti lì 30-40 minuti semplicemente bloccato nella terra. il tuo corpo si allineerà da solo al magnete più grande e non dovrai portare magneti sui polsi o sulle caviglie invece di comprare quel magnete puoi scavare una buca metterci i piedi dentro e chiuderla il tuo sistema si allineerà molto bene al magnete più grande e ci sono molte cose collegate a questo molte, molte cose hai sentito di yogi indiani seppelliti fino al collo questo è quello che stavo per suggerire ma so che non lo fareste ecco perché ho detto i piedi quindi solo i piedi sepolti se funziona per te allora potrai provare fino al collo funziona molto bene altrimenti le persone provano un approccio più semplice e più cosmetico si fanno i fanghi dovrebbero essere sepolti nella terra fino al collo ma la versione annacquata è un bagno di fango puoi provarne uno qualsiasi ma i piedi sono facili da fare se lo fai vedrai in termini di salute almeno quelli di voi che soffrono di allergie allergie allergia significa che in qualche modo non ti piace questo pianeta qualcosa dentro di te non è relazionato con ciò che è la vita qui il materiale che crea la vita su questo pianeta stai diventando un po' un alieno questo è ciò che allergia significa fondamentalmente quindi se ti sintonizzi con i modi del pianeta semplicemente svanirà prova i piedi se funziona vai un po' più in profondità funzionerà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti